Giuseppe Di Giovanna ha un'interessante iniziativa organizzata tra Sciacca e Gela per quanto riguarda i Lions Club, Fondazione Città Murate. Questa manifestazione si svolgerà nella Magna Grecia siciliana in due comuni, di che cosa si tratta? Esiste una fondazione internazionale da 20 anni che è la Fondazione Internazionale delle Città Murate, di matrice Lions. Questa fondazione raggruppa ad oggi 260 città di 26 nazioni e di 4 continenti, quindi è qualcosa che è diventata in questi 20 anni molto grossa. Sciacca l'abbiamo fatto entrare noi di Sciacca in questa fondazione nel 2017 e siamo riusciti ad ottenere quest'anno che il ventesimo congresso si svolga a Sciacca. In realtà si svolgerà fra Gela e Sciacca, quindi inizierà il 25 a Gela per poi spostarsi il 26 sera dopo un passaggio alla Valle dei Templi a Sciacca. I congressisti saranno a Sciacca nella giornata del 27, ci sarà un incontro congressuale alla Chiesa di San Nicolò, la Latina, dove relazioneranno e presentaranno a questa gente che viene da tutta Italia e dall'estero e presenteranno Sciacca due nostri cittadini, Michele Benfari, ex soprintendente, e Pippo Cattano, ispettore onorario dei beni culturali ed ambientali. Dopodiché saranno a Sciacca per tutta la giornata di sabato e la domenica mattina per poi andare via. La Fondazione Città Murate come numeri è molto grande, raccoglie tanti club e tante città, anche tanti continenti. Sì, di fatti è cresciuta tantissimo nel corso di questi anni, più di quanto ci aspettassimo. Io attualmente ho l'onore di essere il segretario di questa fondazione e questo mi ha permesso di spingere per portare il congresso a Sciacca. È un intervento molto importante perché farà conoscere la nostra città agli esponenti di tante altre meravigliose città che ci sono nel mondo e che hanno questo straordinario patrimonio che sono la città murata, le cinte murarie. Purtroppo da noi è un patrimonio che è stato spesso molto trascurato, pur essendo qualche cosa che dovrebbe essere religiosamente curato, perché sono e rappresentano e potranno rappresentare sempre di più in futuro un elemento di ricamo importantissimo dal punto di vista culturale e turistico. Marco Maggio, un'ottantina quindi di partecipanti arriveranno a Sciacca. Qual è l'importanza che riveste questa manifestazione per Sciacca ma anche per i Lions? Per i Lions sicuramente perché è una fondazione che nasce 20 anni fa e che noi ci ha visto come ha detto l'ingegnere di Giovanna coinvolti dal 2017 perché abbiamo ritenuto che il club Sciacca Host e quindi il vecchio nasce nel 64 quindi di 61 anni meritasse questo ingresso nell'associazione. Perché? Perché pensiamo che può rappresentare una valorizzazione per i beni culturali di Sciacca. Pensiamo che far parte di una fondazione del genere che ingloba e richiude i club Lions di comuni che hanno delle cinte murarie e ancora diciamo molti indirittura che ce l'hanno hanno la fortuna di avere le intere tipo Lucca, sono città che hanno tipo Carcassonne in Francia quindi sono in realtà. Noi grazie a Dio ancora che credo ci aveva una percentuale di non so quante mura ancora diciamo erette per entrare a far parte dell'associazione abbiamo ancora da mostrare le nostre bellezze. avremmo voluto sicuramente mostrarle in più dignità e in più luscio, in più... Ci accontentiamo. Ci accontentiamo di quello che siamo riusciti a fare. Ringraziamo il Comune che ci ha la possibilità anche di usufruire anche per la cena di gala per esempio di spazi come l'Arge Superiore del Comune. Grazie a tutti.